ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube oggi in questo video tornano le review e in particolare andiamo a parlare dei giocatori che sono usciti in questi giorni tramite sbc sia i giocatori del mese sto parlando di dibala e di oilund sia giocatori a tema showdown series in particolare all'interno di questo video andremo a parlare di a kanji e clark mettetevi comodi e gustatevi la review partiamo proprio da paulino dibala nella sua versione giocatore del mese l'overall è 90 la posizione di partenza è quella del attaccante destro i play style plus sono il tiro a giro e le giocate di classe ma quello che spicca più di tutti è il 4 di piede debole che quindi viene upgradato dal canonico 3 che ha questo dibala abitualmente le stelle skill rimangono 4 ovviamente il piede preferito è il sinistro il work rate è alto basso un giocatore molto versatile perché comunque può fare per ibridare anche l'esterno destro la t e la tt e il costo di questa sbc è di circa 160 mila crediti per cui un costo neanche troppo proibitivo considerando i fodder che ormai abbiamo tutti quanti all'interno del nostro club parliamo di statistiche perché abbiamo un ottimo 88 di velocità con 92 di accelerazione scatto e 84 di velocità per quanto riguarda la corsa diciamo che l'accelerazione è il parametro che dovrebbe sentirsi maggiormente considerando che questo giocatore come accelerate è il più esplosivo quindi un giocatore che dovrebbe fare dell'accelerazione al suo punto di forza e in effetti lo fa visto che sul primo passo tende ad essere più efficace rispetto a quello che è invece il passo sul lungo infatti questo di bala con i doppi passi non è che prende chissà quanta velocità e soprattutto tende ad essere recuperato in campo aperto motivo per il quale io lo sconsiglio nel ruolo di esterno non incide un po come best toti se vi ricordate per quanto riguarda il tiro e qui bene bene iniziano i suoi punti di forza perché ha 90 di finalizzazione 90 di potenza tiro e 95 di tiro dalla distanza questo di bala finalizza veramente tanto si sente anche parecchio il piede debole a maggior ragione anche sui tiri da fuori perché quel 95 ripeto incide veramente assai unito anche al playstyle plus del tiro a giro che gli permette di potersi esprimere alla perfezione in questo fondamentale infatti c'ha un tiro a giro formidabile ricorda un po quello di claudia pina che era pazzesco quello della puteglia stoti sui passaggi anche qua bene bene perché abbiamo 91 di corto e 84 di lungo un giocatore che palla al piede grazie al suo 92 di agilità 94 di equilibrio si muove perfettamente anche 97 di controllo palla per cui con tutti quei micro movimenti con la levetta riesce a tenere la palla incollata al piede l'80 di resistenza un parametro che comunque possiamo accettare per quanto riguarda gli altri stili di gioco molto bene il passaggio calibrato bianco bene anche il tecnico la corsa controllata bianca fa un ottimo r1 bar r2 a seconda di quelli che sono i vostri tasti il talento naturale non ci serve a niente ma bene anche il primo controllo base e la trivela anche se questa è stata nerfata vi ricordo però che potete sfruttare il tiro a giro plus per fare la trivela con il tiro a giro e quindi attivando questo playstyle qui e potendo calciare anche con quell'altro fondamentale quindi diciamo che come recappino io questo dibala ve lo consiglio da trequartista o da cc in un 4 3 2 1 quindi in un centrocampo a tre con licenza di poter attaccare mi è piaciuto tanto e credo che all'interno soprattutto della serie a non ci sia un trequartista con queste caratteristiche per cui lo sbloccherei e lo stile d'intesa che gli andrei ad applicare è un canonicissimo cacciatore passiamo all'altro giocatore del mese ovvero rasmus oilund della premier league un metro e 91 alto alto 4 skill 4 piede debole piede preferito sinistro tipo di accelerate prolungato controllato quindi controlle delengeti playstyle plus l'aerial e il razzetto questo oilund secondo me è completamente regalato perché costa 80.000 crediti e voi vi portate a casa un giocatore che rispetto alla versione future stars è nettamente superiore innanzitutto per quanto riguarda i playstyle perché l'aerial è uno dei playstyle più meta del momento e lo sapete e il razzetto unito a questa altezza di un metro e 91 gli permette di potersi speed boostare discretamente soprattutto con l'l1 corsa può fare la tt e la t è un giocatore che con i doppi passi vista la sua fisicità va anche molto bene via in velocità davanti la porta finalizza abbastanza bene nonostante abbia quel 92 mi è capitato che un paio di volte la steccasse però la maggior parte delle volte finalizza bene passaggio corto 89 ovviamente non vi aspettate un giocatore agile palla al piede perché 91 di forza con 80 di agilità si sentono parecchio vista la stazza di questo giocatore sugli altri playstyle abbiamo un buon rapido bianco un buon calibrato un buon powershot oltre anche al forte di testa che completano il quadretto secondo me questo qui è un giocatore che potete anche tranquillamente fare da super sub che si sposa alla perfezione con quegli stili di gioco basati sui cross sulle sponde quindi diciamo proprio meta attuale io non l'ho gradito perché faccio più un altro tipo di gioco sapete palla a terra eccetera però se siete abituati invece a fare cross e robe questo qua secondo me vi fa proprio godere perché è tanto tanto performante veniamo adesso ai due showdown ovvero clark e a kanji e partiamo proprio da bobby clark centrocampista inglese in forza liverpool per lui un metro e 78 di altezza alto alto il work rate 4 stelle skill e 4 di piede debole può fare il cc il cdc ls per poterlo ebridare ed è un giocatore che onestamente mi ha colpito mi ha colpito per svariati motivi innanzitutto palla al piede è discretamente veloce non è un fulmine di guerra però si muove molto bene ha una buona finalizzazione quando arriva grazie al suo alto alto anche in fase offensiva grazie allo 94 di potenza tiro e l'87 di finalizzazione conclude bene in porta ha degli ottimi passaggi 90 di corto e 90 di lungo palla al piede si muove anche bene perché 88 di agilità 85 di reattività 90 di equilibrio 80 di controllo palla quello 88 di forza un peletto lo appesantisce però poi il tutto viene compensato dal play style plus della prova di pressing che gli permette di avere un controllo di palla perfezionato quando si trova in corso e soprattutto rendendolo un po più efficace in quelli che sono i corpi a corpo per quanto riguarda poi le statistiche difensive ha un ottimo 86 di intercetto un ottimo 80 di lettura difensiva ha un ottimo 88 di contrasto in piedi a me è piaciuto anche quando andavo a tirare le spallate con la difesa avanzata era bello efficace c'ha poi questo passaggio calibrato che fa dei driven ottimi per raggiungere i giocatori soprattutto all'interno dell'area di rigore ha un bel passaggio incisivo bianco il passaggio lungo l'intercetto la calamita il tiro a giro per cui ha tutto quanto un pool di caratteristiche che possono fare al caso nostro in più potrebbe anche andarsi a duppare qualora il liverpool dovesse vincere o pareggiare la sfida contro il city e casomai lo si potrebbe buttare anche all'interno dell'evoluzione degli showdown rendendolo ancora più interessante quindi questo praticamente è una sorta di bruno fernandez se vogliamo con caratteristiche un po più bustate perché a livello statistico questo questo clark con il doppio play style si fa sentire parecchio passiamo poi a manuelone a kanji difensore centrale che mi verrebbe da dire l'ennesimo difensore centrale uscito quest'anno un metro e 87 3 di skill e 4 di piede debole giocatore bello solido perché ha anche due play style plus interessanti ovvero l'intercetto e il blocco per quanto riguarda gli altri ha anche il gioco d'anticipo bianco la scivolata alle due è anche un bel calibrato del lancio lungo nonché anche l'aerial seppur argento è un giocatore dotato di una fisicità imponente in mezzo al campo lo notate tantissimo e stra veloce raga non so come sia possibile ma recupera veramente benissimo gli avversari quando partono in in velocità e stra presente e stra automatico aiutato tantissimo da quei due play style sia l'intercetto sia il blocco che sono praticamente i due play style automatici per per eccellenza ha dei passaggi spettacolari ha un'ottima reattività con l l2 88 si sente tutto e praticamente riesce a reactare alla perfezione ai micro movimenti avversari ha un ottimo 91 di forza che gli permette di poter essere efficace anche con la difesa avanzata 89 di aggressività 89 di lettura difensiva lui costa 350 mila crediti e qualora il city dovesse vincere a pareggiare si upgrada e soprattutto può essere buttato anche lui nell'evoluzione degli showdown quindi lui ancora una volta mi verrebbe da dire di sbloccarlo ovviamente lo stile di intesa consigliato e ombra lo so è il 50 milesimo difensore centrale valido già so le domande che arriveranno nei commenti ma è meglio di con a te ma è meglio di questo è meglio di quell'altro capiamo al momento forse mi verrebbe da dire peletto meglio persino di con a te però magari se già avete dei giocatori non scambiabili ne parliamo appunto giù nei commenti però questo ragazzi mi è piaciuto proprio tanto ragazzoni miei anche per questo video è tutto come al solito fatemi sapere nei commenti se avete sbloccato qualche giocatore di questi e se vi stanno piacendo o ne siete rimasti delusi vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma viola non mi resta altro che augurarvi una buona giornata a presto ciao